Gianni Sperti si è mostrato senza veli sui social. L'opinionista di Uomini e Donne si è mostrato come mamma l'ha fatto Gianni Sperti è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo per la sua bravura e soprattutto per la sua simpatia La sua brillante carriera è iniziata con la partecipazione ad una famosa trasmissione di media set in veste di ballerino. Amici di Maria De Filippi Dal 2003, il ballerino ricopre il ruolo di opinionista nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari Poche ore fa, Gianni Sperti ha pubblicato una foto. Che ha mandato in delirio le sue fan Sicuramente vi starate chiedendo per quale motivo, il ballerino ha pubblicato sui social uno scatto senza veli che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico femminile La foto pubblicata da Gianni Sperti su Instagram.L'opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha conquistato il popolo del Uem La foto ritrae il ballerino senza veli ed è completamente nudo proprio come mamma l'ha fatto Il sensuale scatto dell'opinionista evidenzia il suo fisico scultoreo ed è stato accompagnato dalla seguente didascalia Bisogna diffidare di due categorie di persone, quelle che non hanno personalità, e quelle che ne hanno più d'una La foto ha ricevuto moltissimi mi piace, e non mancano i commenti delle fan Una fan ha scritto, pura bellezza, sei fantastico Gianni complimenti. Mentre un'altra fan ha sottolineato che oltre ad essere bello è anche buono e sincero Bello, buono e sincero sono aggettivi che deve avere un uomo e tu hai tutti questi requisiti auguri di buon Natale Facina che bacia faccina che bacia faccina che bacia faccina che bacia La dama Angela contro Gianni Sperti.Nella puntata andata in onda in questi giorni su Canale 5 La dama del trono over si è scagliata contro Gianni Speri I toni sono stati accessi tant'è che la dama di Napoli ha anche affermato non capisci un cio apostrofo Il motivo? Gianni Sperti accusa la dama di volere solo cercare un uomo ricco che le permette di esaudire i suoi desideri o di allontanarsi dallo scopo del programma cioè quello di trovare l'amore vero Grazie a tutti